Ciao, io sono Emanuele, sono un artista, un attivista e un ricercatore. Sono qui a San Vito dei Normanni perché mi hanno invitato come docente della sezione che qua si chiama X, che si occupa di comunicazione, di come portare il messaggio. L'assemblea, per come l'abbiamo conosciuta noi, per esempio attraverso questo esperimento che abbiamo fatto di Macao, nella città di Milano, dove all'interno di una mobilitazione politica di artisti, operatori culturali, sempre cittadini o studenti dalle università, si è cercato di dire la nostra all'interno della città, lanciando l'idea che si poteva inventare modelli diversi per una città diversa. Ieri è nato ed è emerso questo concetto di come costruiamo gli algoritmi del comune. L'assemblea è la grossa porta di accesso dove mettiamo a condivisione le nostre conoscenze e poi dall'assemblea partono dei percorsi che hanno un disegno, possiamo disegnare gli algoritmi, le procedure e possiamo riportare questi algoritmi, queste procedure all'interno del consenso generale e così possiamo costruire corpo, punto. Grazie a tutti!